Gentili telespettatori, buona giornata. Avete sentito in questi giorni che c'è stato un altro passaggio in Fratelli d'Italia, questa volta dalla Lega e Vincenzo Sofo, che cambia casacca, spiega il perché del suo cambio. Dice che la Lega non è più conservatrice, mira entrare nello spazio di Forza Italia. Lui che è soprannominato Monsieur Le Pen per la sua relazione con Marion Maréchal, nipote della leader della destra francese, negli ultimi giorni ha fatto notizie al suo passaggio ufficiale dalla Lega a Fratelli d'Italia, anche se lui l'aveva già fatto nei mesi scorsi, è solo l'ufficializzazione. E fa un'intervista con il quotidiano La Stampa, la stampa subito interessata, ci mancherebbe. Quando si parla di un qualcosa contro in qualche modo la Lega, arrivano subito i giornaloni a fare le interviste, giornaloni di sinistra a fare le interviste di questo tipo. Lui dice che a febbraio è uscito dal gruppo della Lega nel Parlamento Europeo, entrando in quello di Giorgia Meloni, e dice da indipendente perché l'ingresso della Lega nel governo Draghi non si concilia con il mio obiettivo. E poi aggiunge costruire una grande casa di destra, conservatrice identitaria e sociale. Ora ho solo ufficializzato l'ingresso in Fratelli d'Italia perché è un progetto più coerente con le mie idee. Quindi Salvini, secondo l'eurodeputato, ha perso la spinta conservatrice identitaria. Dice un tempo lo era, non a caso 11 anni fa entrai nella Lega, ma vedo che adesso sta legittimamente iniziando un percorso libero al moderato per entrare nello spazio di Forza Italia. E quell'idea non è nelle mie corde. Quindi la decisione di passare con la Meloni non è dettata dal vento che cambia, bensì da una scelta identitaria consapevole. Allora, che la Lega sia cambiata in 11 anni, su questo non c'è ombra di dubbio. Che ci sia ancora un cambio nella Lega anche questo è indubbio perché l'avvicinamento a Forza Italia, o meglio, assorbire Forza Italia vuol dire cercare di assorbire anche l'elettorato che ha sempre seguito Forza Italia, quindi con delle idee di un certo tipo sia in Italia che in Europa. La Lega partito di destra si sposta anche al centro, quindi più che un partito adesso di destra diventa di centro-destra, mentre la Meloni rimane a destra, anche se molti di centro la votano. Queste poi diventano solo delle definizioni un po' così. Naturalmente molti hanno parlato, ah Soto cambia proprio perché adesso il partito di Giorgia Meloni al vento in poppa, pertanto tutti cercano di salire sul carro del vincitore. Ma questo è anche vero, come ormai lo conoscete l'effetto carrozzone, pecorone, quello. La gente sale sul carro del vincitore, perché è più semplice. Come dire tifare Juventus è più semplice che dire tifo Benevento, tifo squadre che magari sono venuto Benevento così, non l'abbiate a male il primo nome che mi è venuto in mente. Però è più facile tifare una squadra che vince. Tu cosa tifi? Ah io tifo la squadra che vince sempre, invece tu sei quello che perde sempre. Quindi tu automaticamente ti metti dalla parte del vincitore perché ti piace il vincere facile. Ecco, è così. Ma a parte l'elettore che sale sul carro del vincitore, c'è anche il politico che vede un futuro di un certo tipo. Se tutti dicono che Fratelli d'Italia supererà la Lega, che Meloni sarà Premier, si sarà un governo Meloni. Caspiterina, bisogna salire su quel carro perché un governo Meloni ti può portare ad essere sottosegretario, viceministro, ministro, senatore, deputato. Capite che un partito che nel 2018 era al 6% o meno e adesso è al 20,5% ha molti posti da assegnare se diventa il partito principale di governo in un futuro. E quindi ci sono tanti posti liberi. E allora la gente fa gara a saltare sul carro di chi sta andando spedito verso il governo. interno. Questa è la politica. C'è poca ideologia e molto stipendio. Quando uno entra nei piani alti della politica, quello che cerca di fare è rimanere il più possibile in quel cerchio ristretto. Cercare magari anche di salire, di avere anche un posto migliore, di avere un posto al sole, un luogo, un posto in politica dove magari è difficile che mi mandano via perché è in espansione il partito. Che dietro la scelta di questo politico ci sia solo la parte ideologica, no? Perché la Lega è cambiata, allora sono andato in Fratelli d'Italia. Naturalmente c'è anche dietro l'opportunismo di una carriera. Italia. Inoltre Soffo ha voluto fare da pompiere nella competizione tra Meloni e Salvini. Dice possono viaggiare insieme. La Lega resta un partner fondamentale per costruire una coalizione di centrodestra. Ma credo che non si possa prescindere dalla presenza di una forza di destra conservatrice come quella della Meloni. Ovviamente tutti quelli che cambiano e vengono accettati in un nuovo partito devono dire e assumere un certo tipo di atteggiamento. Non possono dire, beh, io cambio perché qua magari c'è più possibilità di crescita. Non possono dire così. No, perché... Si racconta un po' la storia di Babbo Natale. Almeno questa è la mia opinione. Poi posso anche sbagliarmi. Magari questo signore l'ha fatto esclusivamente per questioni ideologiche. Io vi ringrazio per avermi ascoltato. Vi invito ad iscrivervi al canale. L'iscrizione è gratuita. Siamo anche in Facebook, in Instagram, in TikTok e nell'altro canale di YouTube Tele Italia Seconda Rete, dal quale vi invito ad iscrivervi. Poi c'è anche la possibilità di commentare e partecipare a dei sondaggi nella community. C'è anche la possibilità di fare l'abbonamento al canale, che è una cosa in più, un aiuto al canale stesso, ma c'è un bel beneficio, nel senso che si può vedere con l'abbonamento che è meno di un euro al mese, 99 centesimi, si possono vedere più video, almeno un video in più al giorno, quindi una trentina di video al mese. Grazie a tutti quanti e ci vediamo al prossimo video tra una ventina di minuti. Arrivederci a tutti.